L'osservatorio spaziale Herschel ha rilevato molecole di ossigeno nella nebulosa di Orione. La scoperta è stata effettuata da un gruppo di ricerca congiunto dell'ESA e della NASA, come riportato da un articolo dell'Astrophysical Journal. La ricerca di ossigeno nello spazio è nota da tempo, ma i risultati non sono stati spesso quelli sperati. Gli atomi di ossigeno rimangono bloccati nei granelli di polvere che galleggiano nello spazio e incapsulati nel ghiaccio, rendendone difficile l'osservazione. A fronte di tale ipotesi, un team di studiosi del Jet Propulsion Laboratory della NASA ha pensato di puntare ai Fai, lo spettrometro ad infrarossi del telescopio Herschel, verso la nebulosa di Orione, essendo zona di intensa attività stellare. Il telescopio avrebbe rilevato la presenza di una molecola di ossigeno per ogni milione di molecole di idrogeno.